La recente riorganizzazione a livello nazionale della Guardia di Finanza ha previsto l'estensione fino alla provincia di Piacenza della circoscrizione territoriale della stazione di soccorso alpino di Abetone Cutigliano in provincia di Pistoia, istituita nell'estate dello scorso anno. Le fiamme gialle potranno così operare nella provincia piacentina, oltre alle rituali attività addestrative e ricognitive, anche e soprattutto in caso di richiesta di intervento, come operazioni di salvataggio per pubbliche calamità, emergenze di protezione civile e attività di ricerca e soccorso. Una revisione che fa seguito a quelle che nel corso degli ultimi anni hanno elevato il livello ordinativo di diversi reparti territoriali, come a Piacenza che già dal 1 agosto 2016 ha visto la compagnia innalzarsi a rango di gruppo e permette una sostanziale omogeneità tra le differenti strutture organizzative della guardia di finanza presenti in ciascuna provincia d'Italia. Per il comando provinciale di Piacenza, gli attuali assetti operativi, si legge nel comunicato delle fiamme gialle, oltre a garantire una più elevata e ramificata presenza sul territorio, grazie anche a un potenziamento degli organici con l'arrivo di nuovi spettori, assicurano più dinamicità ed efficacia alle attività ispettive e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, affidata ai militari specializzati antiterrorismo di pronto impiego. In sostanza, spiega la guardia di finanza di Piacenza, la giornata rimodulazione organizzativa del corpo non solo si rivolge in modo più appropriato e flessibile alle esigenze della cittadinanza nel contrasto alle frodi e alle trasgressioni in materia di polizia economico-finanziaria, ma si apre ad un costante miglioramento del dispositivo di sicurezza e di prevenzione già in atto a livello provinciale con le altre forze di polizia.